Pugna Gisara, cavallo con maniglie, piacerebbe proprio che lo portasse a termine al migliore dei modi. Sin qui ci è piaciuto molto, ma ora si tratta di continuare su questa scia. Buono ritmo, buona l'esecuzione e soprattutto buona la linea del corpo nei suoi mulinelli che è essenziale per... ecco, non faccio tempo a finire in un commento, si piega un braccio e cade. Una finale sfortunata, quattro svizzeri in finale, due in campo femminile, due in campo maschile, tutti con un errore. Ha un esercizio veramente di qualità al suo, questi errori... Spero di poter dire giungono a fine stagione, però è peccato che finisca bene quantomeno... eh no! Non ne ha più! È peccato anche per questo atto finale che veramente ne soffre. La gara tutto sommato molto positiva, ma adesso gli errori cominciano ad assommarsi. Sostenuto dal pubblico, Benjamin Gischar ci riprova, deve chiudere l'esercizio. Maglia Rescivado per concludere e l'uscita nella posa verticale. Ti assicuro che il suo esercizio è ottimo nei contenuti, però purtroppo ha avuto un blackout imperdonabile... Eh sì, due cadute, sono due punti di deduzione sul punteggio finale. Noi troviamo la venezolana...